Musica Cari telespettatori buonasera e bentornati a Primo Cittadino Diamo il via a questa prima puntata dell'anno con il sindaco di Fano Massimo Seri Buonasera sindaco e bentornato Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano Ricordo i numeri di telefono 0721 86 14 33 per intervenire in diretta e parlare appunto con il primo cittadino oppure 338 49 68 250 per inviarci i messaggi anche tramite Whatsapp Io partirei sindaco subito da questi screening che proseguiranno come abbiamo sentito anche nel corso del nostro telegiornale fino a mercoledì 13 gennaio un'iniziativa che è stata voluta fortemente dalla regione Marche per tracciare tutti i positivi asintomatici Tanti i fanesi e non solo che hanno partecipato, lunghe file, forse un po' meno giovani Sì, beh, c'è stata una bella risposta Ancora una volta i fanesi hanno dimostrato grande sensibilità Devo dire che c'è stata anche una bella organizzazione Tutto si è svolto nella piena regolarità, senza file d'attesa E qui sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa organizzazione Dagli operatori sanitari, infermieri e medici, tutti volontari della protezione civile della Croce Rossa C'è stata una bella sinergia anche per quello che riguarda la regia attraverso l'area vasta e l'amministrazione comunale Devo dire, abbiamo avuto anche tanti apprezzamenti, la gente ha gradito Sono arrivati anche noi tanti messaggi quindi Sì, la cosa che mi ha fatto piacere è sentire anche i commenti degli operatori sanitari Che avevano questo servizio, l'avevano fatto anche in altre località nelle settimane precedenti E hanno riscontrato effettivamente un'efficienza, anche una gentilezza da parte di tutte le persone coinvolte I numeri sono stati importanti E noi abbiamo cercato ovviamente, abbiamo fatto anche un lavoro di comunicazione E la risposta c'è stata Ovviamente vorremmo insistere un po' di più anche nei confronti dei più giovani Abbiamo fatto un lavoro anche con le scuole In questa giornata c'è stato un incremento di giovanissimi Quindi colgo l'occasione anche in questa serata di rivolgermi ai giovani Invitandoli ad andare a fare il tampone Perché è un momento, una verifica importante Visto che c'è questa occasione di screening Non sciupiamola, approfittiamone Sindaco, guardiamo allora insieme i dati di oggi Sono stati 3.218 i tamponi effettuati in questa quarta giornata di screening 13 sono risultati positivi per una percentuale dello 0,4% Al Codma di Fano sono stati effettuati 1.354 tamponi Che hanno riscontrato 9 positivi Mentre alla palestra Venturini sono stati 870 I cittadini che si sono sottoposti al test Di cui 2 positivi Al Bocciodromo di Marotta sono stati eseguiti 994 tamponi con due casi di positività Infine a Colli al Metauro sono stati registrati 439 tamponi 4 i positivi al virus Vorrei fare una precisazione perché ci sono arrivate delle telefonate Anche poco prima di andare in onda In realtà questo ristorante l'ha tagliata Si trova a Colli al Metauro Ma è riservato più che altro per i cittadini di Cartoceto e Monbarosso Sì perché lì siamo al confine Fra Cartoceto e Colli al Metauro In realtà è vicino a Cartoceto È una locazione utile, comoda Sia per i residenti di Monbaroccio e di Cartoceto Perché per quanto riguarda i cittadini di Colli al Metauro Saranno i prossimi giorni Quando inizieranno altri screening per i comuni Con una popolazione più piccola rispetto a quella di Fano Mentre in questo screening era compresa la città di Fano Di Mondolfo, di San Costanzo, Cartoceto e Monbaroccio Un'altra piccolissima parentesi Poi inizieremo a leggere tutti i vostri messaggi Perché ce ne stanno arrivando davvero tanti Stiamo vedendo in questi giorni tantissime foto sui social Di persone che stanno eseguendo tamponi anche noi Per far vedere appunto che c'è questa iniziativa Leggo d'altra parte dei commenti della serie Non c'è bisogno di sbandierarlo No, qui fatelo e non dite nulla In realtà forse credo che sia anche il tempo di evitare Polemiche, anzi invitiamo tutti ad andare a fare questo screening Questo test che è rapido, che è semplice, che è gratuito Su base volontaria Magari incentivate anche i vostri familiari I vostri amici a sottoporsi appunto a questo test Ecco, no, su questo vorrei sottolineare Alcune volte si fa proprio per comunicarlo Per invitare ad andare a effettuare il tampone Oggi sindaco anche la bomba Insomma, Fanno non si sta facendo mancare nulla Per fortuna è andata meglio rispetto al 2018 Se non ricordo, un altro episodio a Sassoni Sì, beh questa mattina quando ho ricevuto la telefonata Del presidente di Aset mi è tornata la luce In mente la stessa telefonata avuta nel 2018 Perché anche allora fu il presidente di Aset che mi avvertiva Che era stata rinvenuta un ordigno bellico Quindi non nascondo la preoccupazione Considerato anche che questa volta era sotto il ponte dell'Arzilla E quindi voi capite cosa poteva significare tutto questo Ci siamo subito adoperati Qui devo ringraziare anche per la tempestività E la collaborazione subito dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo Poi ho chiamato subito il prefetto Con la quale abbiamo subito attivato la procedura C'è stata nella fine mattinata anche l'arrivo degli artificieri E fortunatamente l'entità della bomba non era come quella della volta scorsa Ma noi già ci eravamo attivati Eravamo pronti anche ad eventuali interventi di evacuazione Perché ovviamente in queste situazioni non bisogna attendere Bisogna farsi trovare pronti, preparati Come abbiamo sempre fatto in tutte le emergenze Abbiamo dimostrato competenza, serietà e professionalità Probabilmente anche il susseguirsi di queste esperienze Ci ha aiutato ad essere pronti a perfezionare anche i nostri piani di emergenza Quindi insieme al Vice Sindaco ci siamo subito ricati sul posto Ripeto, grande collaborazione dei carabinieri che sono intervenuti Gli artificieri, poi ovviamente resici conto di quello che si trattava Perché la bomba fra l'altro era a fianco di un pilone del ponte In quella zona avevamo già fatto anche la verifica bellica Quindi la bonifica non era risultato nulla E questo effettivamente era al di fuori dell'area interessata dai lavori Era proprio sul pilone quindi era anche difficile individuarla E ci si è accorti perché doveva passare un tubo Quindi si è scavato Poi devo dire che questo tipo di bombe venivano poste sotto i ponti Per farli esplodere nell'eventualità Dovessero passare dei convogli militari Qualcuno dice in realtà forse non è della seconda guerra mondiale Però è difficile Dice non sono un esperto di bombe francamente L'ultimo dei pensieri questa mattina Sono stati quelli di identificare la provenienza dell'origine della bomba Poi ovviamente gli artificieri fanno il loro mestiere E su questo sono esperti Quindi abbiamo verificato perché quando si collocavano queste bombe Ne venivano poste più di una vicino ai ponti Quindi abbiamo fatto una verifica anche intorno Non è risultato nulla Quindi anche per i cittadini non stare tranquilli Abbiamo risolto tutto nel giro di poco tempo La bomba è già stata fatta brillare in una cava in piena sicurezza E quindi ecco fortunatamente questa volta il tutto si è risolto In poco tempo anche perché eravamo seriamente preoccupati In un primo momento considerato anche il momento che stiamo vivendo Quindi immaginate un'evacuazione in periodo di covid Quindi con le problematiche degli assembramenti Sarebbe stata una situazione veramente complessa e difficile Ovviamente non ci stavamo attrezzando Abbiamo già individuato tutte le zone Avevamo guardato quelle che dovevano essere le eventuali evacuazioni Però fortunatamente tutto è andato per il meglio L'ipotesi è stata quella più leggera Quindi è tutto bene quel che finisce bene Sindaco prima di sentire chi c'è al telefono Vorrei passare alla prima segnalazione Mi chiamo Federica Sono un'infermiera e lavoro al Santa Croce Volevo chiedere al sindaco Quando verranno rimosse le scritte secondo me offensive Ci scrive nell'incrocio di Via della Bazzia Che parlano di covid truffa, di medici criminali eccetera Gli ho mandato una mail alla fine di novembre Ma ancora non ho ricevuto una risposta Francamente questa mail non mi è arrivata Sicuramente non me l'hanno sottoposta Mi scuso Domani provvedo subito a segnalarlo Perché l'infermiera che ha segnalato questa cosa Ha perfettamente ragione È vergognoso che alcune persone possano scrivere queste cose Invece di ringraziare ogni momento da quando ci alziamo Finché andiamo a dormire Per il lavoro che gli operatori sanitari hanno fatto E stanno facendo Perché non dimentichiamolo Che anche in queste ore tante persone vengono ricoverate Tante persone vengono assistite E quelle sono scritte di coloro che appartengono a quella categoria Di negazionisti Che non gli fa onore Sono una vergogna sotto certi aspetti E quindi anzi Io voglio sottolineare proprio quel aspetto Qui non c'è nessuna invenzione Perché lo vediamo sotto gli occhi E proprio qualche giorno fa C'è stata una testimonianza proprio di una persona Che è stata colpita da Covid Ricoverata che apparteneva a questa categoria Che giustamente ha detto Non ho capito quale abbaglio io abbia avuto Ma invito tutti a rivedere queste posizioni Perché realmente, effettivamente Il problema esiste Ed è sotto gli occhi di tutti Quindi sono offensive Ed è giusto che vengano eliminate Quindi sarà mia cura da domani stesso Mettermi all'opera Ad operarmi per farle cancellare Bene, dovremmo avere qualcuno al telefono Giusto regia? Buonasera Buonasera Prego il sindaco è qua che l'ascolta Buonasera signor sindaco Buonasera Sono Pania Campanelli Chiamo da Mettauriglia Chiamo a nome del comitato di noi di Fano Sud Le volevo porre alcune domande Le elenco tutte di seguito Sì, 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 va bene Ce le appuntiamo Non sento il sindaco Sì, 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 può dirvele Ce le appuntiamo Le dica tutte che poi il sindaco le risponde Allora Prima di tutto La più urgente Sono i tempi per lo spostamento delle scogliere Per mettere in sicurezza la nostra spiaggia Perché noi praticamente in questo periodo abbiamo il mare Che è arrivato fino alla recinzione della ferrovia E nei sottopassi addirittura Ha lagato poi anche gli orti E quindi non si contiene più Stiamo aspettando di sei mesi in sei mesi Viene protratto poi la data di esecuzione e inizio lavori Ma ancora a quanto pare nemmeno nel 21 Forse fine 21 Siamo disperati Per quanto riguarda questa situazione Perché diciamo ne va del turismo Ma ne va proprio anche della vivibilità E dovremmo avere anche dei video se non sbaglio E ho inviato delle foto Che dimostrano a che punto è arrivata la spiaggia Il mare proprio sotto la ferrovia Ha lagato i sottopassi È arrivata negli orti Ecco io ho mandato queste Ecco questo è un sottopasso allagato E poi questo è proprio Questo è un orto praticamente Che si è visto arrivare l'acqua Ah quello è un orto quindi All'interno ecco Questa è la prima domanda Questa è la prima domanda Poi la seconda Vorremmo sapere se lo studio di fattibilità Del proseguimento degli interquartieri Da Tombaccia fino verso Marotta Ha avuto degli sviluppi Ci eravamo sentiti tempo fa Non so se Diciamo questo Questa promessa che ci aveva fatto Ha iniziato Diciamo Questo progetto ha iniziato ad essere elaborato In accordo anche con gli altri sindaci Vorremmo sapere se ci sono novità su questo Su questo Sì E poi vorremmo sempre portare all'attenzione Diciamo dell'amministrazione comunale Il progetto di Ecomuseo di Metauriglia Abbiamo Un bel gioiellino Al comune Diciamo il progetto che ci siamo incaricati di sviluppare È un'opera che sicuramente porterà un Anche dal punto di vista turistico Oltre che storico Esatto, porterà veramente un cambio completo Di tutto il territorio Ci sono tanti tanti progetti Poi comunque il signor sindaco lo sa Perché credo che l'abbia visionato E lo facciamo rispondere subito Perché abbiamo ancora tante segnalazioni per lui Quindi io termino qua E ringrazio per le risposte Grazie a lei Signaco da dove vuole cominciare? Interquartiere con se Seguiamo l'ordine delle domande Ok Intanto un ringraziamento Perché devo dire il comitato sta facendo un buon lavoro Io non sono critico quando sono dei comitati Che manifestano in modo costruttivo Per suggerire anche orientamenti E sono come in questo caso Collaborativi E quindi poi anche Alla fine anche le risposte arrivano Perché c'è un percorso che si fa insieme Allora per quello che riguarda Le scogliere Le immagini rendono chiara Quella che è l'emergenza L'urgenza Il bisogno di intervenire in quella zona E noi come amministrazione comunale Abbiamo già fatto tutto Abbiamo approvato anche l'esecutivo Quindi nel momento che si approva l'esecutivo Si va al bando Alla gara d'appalto Essendo passato l'anno Devono essere rimodulate le risorse Che è una prassi amministrativa Non che riguarda il comune Ma che riguarda la regione e RFI La regione lo ha già fatto RFI non ancora Ma è una questione veramente di qualche giorno E la gara d'appalto in questo caso La convenzione non prevede Che la faccia il comune Ma il provvedorato delle opere pubbliche Questo non dico che mi preoccupa Perché ovviamente lo fanno Sono loro che hanno elaborato il progetto Solo che bisogna stargli monitorarli È la cosa che io faccio Insieme anche al vice sindaco Quindi sarà mia cura monitorarli Come ho fatto in altre circostanze Quando le gare sono altri enti Che le bandiscono Gli enti più grandi sono più lenti Rispetto all'amministrazione comunale L'amministrazione comunale Avranno tanti difetti Però essendo direttamente interessati E vicino al cittadino Sono anche più veloci Ed lo abbiamo dimostrato In più circostanze Quindi siamo nella fase Della gara Che una volta fatta la gara Con le tempistiche amministrative Poi con la giudicazione dei lavori Una volta che c'è la giudicazione definitiva La ditta può iniziare il giorno dopo Quindi per riassumere È tutto pronto per la gara di bando Che deve fare il provveditorato E bisogna attendere un attimo La rimodulazione si chiama così Che è la riconferma delle risorse Ma è meramente un atto amministrativo Perché purtroppo nel pubblico Ci sono delle procedure che vanno rispettate Però insomma il tema vero Che sottoponeva È quello della tempistica Perché ecco la preoccupazione Che ho anch'io È quella di monitorarlo costantemente Quindi è un impegno Che mi prendo in prima persona E quando mi prendo questo impegno Lo faccio L'ho già dimostrato in altre circostanze Vado al limite del stalking Però io puntualmente Periodicamente richiamo Per sollecitare E per fare in modo Che insomma si rispettino i tempi Per quello che riguarda Il progetto di prefattibilità Delle interquartieri Insomma dell'infrastruttura Di collegamento Con le opere compensative realizzate Io mi ero preso l'impegno Di prevederlo Di farlo Avevamo già parlato Con gli altri sindaci Però giustamente Essendo il comune più grande È giusto che si faccia carico Del percorso L'abbiamo già previsto Nel nostro piano Nel nostro bilancio di previsione Che deve andare I primi di febbraio In consiglio comunale Una volta approvato Noi possiamo affidare i lavori Finché non approviamo il bilancio Anche se le risorse Le abbiamo già previste Destinate Però non è come un privato Che ce li ha in banca E dice bene Fate i lavori Noi dobbiamo Applicare queste procedure Però ecco Quell'impegno È stato mantenuto Le risorse sono state previste Nel bilancio di previsione Per quello che riguarda L'ecomuseo Anche questo è un bellissimo lavoro A cui va reso merito Per il lavoro Che è stato fatto Dal comitato Dall'Albatros L'associazione di Metauriglia Hanno fatto un bel progetto Innovativo Sensibile Che tiene conto dell'ambiente Adesso è uscito Il bando periferie Alle quali noi partecipiamo Adesso stiamo Tecnicamente studiando La candidatura Per essere finanziato Stiamo ragionando Se presentare un progetto unico Due progetti E comunque L'ecomuseo È inserito In questo In questo bando A cui parteciperemo È un bando importante Che viene Sono risorse Significative Quindi quella È una grande opportunità Se riuscissimo A farcelo finanziare Ma noi insomma Siamo fiduciosi Anche perché qui Faccio una nota polemica I bandi periferie Che sono risorse Straordinariamente Importanti Fino ad oggi Le avevano destinate Soltanto alle città Capoluogo Adesso fra l'altro È un'iniziativa Che prenderò Perché sono veramente Arrabbiato In questo senso Noi con sta storia Che non siamo città Capoluogo Pur essendo più grandi Di altre città Capoluogo Troppo spesso Veniamo penalizzati Dobbiamo fare ricorso Alle nostre risorse E mi sembra Un'ingiustizia Perché i cittadini Sono tutti uguali Allora Il fatto che vengano Richiamati In città Capoluogo Io posso capirlo Nel momento in cui Le province Non svolgono più Quel ruolo Che avevano in passato Io sono stato Assessore provinciale Quando le province Qui stiamo Un paese strano Passiamo da un eccesso All'altro Ma le province Svolgevano un ruolo Importante Di coordinamento E di distribuzione Anche Degli interventi In tutto il territorio Provinciale Perché c'era una rappresentanza Territoriale Abbastanza Equilibrata Oggi Quando attribuiscono Queste possibilità A città Capoluogo Io posso capirlo Se lo fanno Distribuendo a loro volta Le risorse Ma siccome Se le prendono Per le loro città Diventa un'ingiustizia Adesso in questo bando L'hanno esteso Guardando il numero Degli abitanti E fra l'altro Ho già mobilitato Tanti comuni d'Italia Che sono nella nostra situazione Perché questa cosa Non va bene E la porrò Sia a livello Dell'associazione Dei sindaci Ma anche a livello Di governo Detto questo Chiusa questa parentesi Quest'opportunità Oggi c'è E noi la utilizzeremo Visto che ci sono Dico anche Che tra le priorità Che ci siamo dati In questo 2021 Anche tenendo conto Del recovery fund Sperando che questo governo Trovi la sintesi Smette di fare i capricci E punti Ma ho sentito Oggi il telegiornale Insomma che Questa sera Domani Il Consiglio dei Ministri Dovrebbe approvare Le linee per il recovery fund Noi stiamo L'abbiamo messo Alle nostre priorità Per la progettazione Ulteriore Della ciclabile Del cosiddetta Fano Senigallia E anche per il tratto Importante di Metauriglia Che vogliamo mettere Proprio su quel canale Dei finanziamenti Dei recovery fund Sindaco dovremmo avere Un'altra telefonata Per lei Giusto? Ce l'abbiamo Buonasera Chi c'è in linea? Ci sente? Buonasera Buonasera a lei Buonasera Sono Cinzia Del comitato Riapriteci le terme Di Carignano Buonasera Buonasera Poi ci siamo incontrati Poco tempo fa Sì esatto È stato Un buon incontro Mi è piaciuto Quindi Bene così Ascolti Sindaco Io volevo fare Innanzitutto Una piccola premessa Per quanto riguarda Il comparto delle terne Prima di farle La domanda Insomma Dunque Volevo dirle Che l'area Che è stata acquistata Dal gruppo Romani Sappiamo che ha avuto Una destinazione D'uso termale Esclusivamente termale Quindi per costruire La clinica Quella clinica Che loro vogliono fare Si doveva portare Una variante Al PRG Visto Poi Altro tutto Ho saputo che voi Avete avuto già Un nuovo confronto Con il gruppo Romani Molto di recente Quindi Volevo farle Una domanda Che spero Che poi magari Avremo anche modo Di approfondire Nel piano Nel tavolo Di confronto Che ci avete promesso Insieme ai nuovi proprietari Quindi sono qui a chiederle Se quanta superficie Di quell'intera Area termale Acquistata Dal gruppo Siete voi Determinati Ad escludere Dalle varianti Per puntare Anche sulla realizzazione Di un impianto termale Importante Che possa riscuotere Successo Anche a livello nazionale Perché Diciamo In realtà La realtà È che avere Una forte rilevanza Come prevenzione Cura Benessere Le terme Portano anche A un turismo Diciamo Fedelizzato A differenza Di una clinica Dove la gente Diciamo È di passaggio Certo Lavoro propositivo Di monitoraggio Di attenzione E quindi Mi sento anche Di ringraziarli Pubblicamente Noi abbiamo avuto Un incontro Recentemente Da allora Non ci sono novità Perché non abbiamo Avuto un nuovo incontro Con La nuova Proprietà Ci siamo presi L'impegno Come giusto che sia Che teniamo Aggiornato Il comitato Proprio per il lavoro Che ha svolto E che svolge E condivido Anche la loro Non dico Preoccupazione La loro Richiesta Che è quella Della riapertura Della rivalorizzazione Delle terme Di Carignano E sotto certi aspetti Le tranquillizzo Perché la parte Proprio delle terme Sono destinate Alle terme Hanno anche Dei vincoli Quindi non si prestano Per altro tipo Di attività Poi Come hanno annunciato I nuovi proprietari Pubblicamente Anche nelle interviste Che hanno Rilasciato Loro vengono Dal mondo Delle cliniche private Hanno l'intenzione Di portare Anche Quel percorso Di chirurgia estetica Che comunque Ha un suo Riferimento Pensano Ad un centro Importante E quindi È un'occasione Anche per Il territorio Chiaramente Come amministrazione Noi siamo interessati Che le terme Vengono riaperte È chiaro Che quando sono Attività Private Devono avere Anche una sostenibilità Economica Perché non ci giriamo Intorno Altrimenti Rimangono come sono Ed è l'ultima cosa Che noi tutti Non vogliamo Quindi ci deve essere Quel giusto Equilibrio Anche una prospettiva Di quel tipo Che si aggiunge Può essere Un'opportunità Per il territorio Posti di lavoro Nuova ricchezza Che viene portata Al territorio Come diceva la signora Esatto Quindi Sotto questo aspetto Siamo in sintonia Però non ho elementi nuovi Quindi appena ci saranno Manterremo questo impegno Questo dialogo costante E se sarà possibile Da parte nostra Non c'è alcun problema Sarà anche nostra intenzione Fargli incontrare Con la proprietà Ovviamente Deve esserci la disponibilità Anche dei privati Ma non penso Penso che abbiano Tutto l'interesse Di condividere Con il territorio Le cose condivise Hanno sempre un percorso Più snello E si raggiungono meglio Gli obiettivi Quindi siamo in piena sintonia Con gli obiettivi Con anche le preoccupazioni Che il comitato si pone Sindaco Ci stanno arrivando Tantissimi messaggi Ma anche per chiederle Delle buche Vorrei farle vedere un video Queste non mancano mai Non mancano mai Voragini La strada è tutta Una buca enorme La gente Ci caschi dentro Allora Strada comunale di mezzo Ecco questa Ci eravamo occupati Anche poco tempo fa Nel corso del nostro telegiornale Di questa problematica Si farà qualcosa È prevista l'asfaltatura Allora Questa è una strada lunghissima Quindi non è semplice Alcuni tratti Sono veramente In condizioni pessime Ho avuto modo Di percorrerla Anche a fine Verso la fine Dell'anno passato Quindi poco tempo fa Visto che siamo Inizio del nuovo anno Hanno ragione Adesso Nel nuovo piano Delle asfaltature Quindi non sono Dobbiamo essere onesti Non sono per l'immediato Perché dobbiamo Fare il nuovo piano Destinare le nuove risorse Poi appaltarlo Adesso ancora siamo Abbiamo appaltato Il milione Dello scorso anno Destinato Tutto è impossibile Farla Perché C'è il budget La strada Vorrebbe dire Il budget Di mezzo intervento Nel mezzo Del territorio Comunale Però Almeno Per alcuni tratti Per alcuni tratti Quelli Più problematici Penso che Nel prossimo piano Delle asfaltature Verranno Inserite Dovremmo avere Anche una foto Della strada Eccola qua Sì se no Hanno perfettamente ragione Inutile girarci intorno Qua siamo al prelato Altra zona Però ci hanno segnalato Anche la strada Che porta Alla scuola di Cucurano E tanti altri Insomma che ci stanno arrivando Sarebbe davvero interessante Sindaco avere Un piano Insomma Sì Adesso lo faremo L'elenco l'abbiamo tutto Perché tanto Lo ricordavo Noi abbiamo 400 chilometri di strade E ce ne sono Diverse Specialmente quelle più periferiche Che hanno Una necessità urgente Di intervento Ma ne posso aggiungere Delle altre Di cittadini Che l'hanno già Segnalata Feriano Insomma Le conosciamo Ripeto Un po' alla volta Cerchiamo di farle tutte Tra pochi minuti Dobbiamo andare in pubblicità Spero di riuscire a leggere Intanto qualche segnalazione Volevamo sapere Se il comune Si sta adoperando Per come far togliere La zona esondabile Dal rio Crinaccio A Ponte Sasso Quindi torniamo a sud Visto che i lavori Sono stati fatti E dove possiamo Vedere il progetto Di come verrà La pista ciclabile Compresa Dei suoi arredi Sì allora La zona esondabile Non è che si può togliere Dal giorno Dall'oggi al domani E certe precauzioni Vanno comunque mantenute Perché rimane sempre Una zona esondabile Noi abbiamo fatto Quegli interventi Che hanno portato A una tranquillità Io ricordo Che in quell'area Esondavano Almeno due volte All'anno Poi Fra l'altro È stato uno dei primi Incidenti Se possiamo chiamarli Del mio insediamento Appena insediato È stato il primo problema Vero Che ho dovuto Affrontare Mi ricordo Mi preso un impegno Che ho mantenuto E che penso Aver agito Con senso di responsabilità E attenzione Senza fare Passi in avanti Senza fare Voli pindalici Ma con concretezza Quindi abbiamo fatto Un'analisi Di quelle che erano Le problematiche E poi siamo intervenuti Però questo non significa Che non si possano Creare situazioni Di nuove esondazioni In casi Eccezionali Che vanno al di là Di quelli che si sono Verificati E oggi sappiamo Che queste cose Possono accadere E quindi dobbiamo essere Sempre attenti E mantenere Quelle misure Anche di prevenzione E di sicurezza Per quello che riguarda La pista ciclabile Rientra Nel discorso Che facevo prima Adesso stanno ultimando Per primavera Sarà finita I lavori della ciclabile Di Ponte Sasso Fra l'altro Lì voglio ricordare Ricevetti L'anno scorso Molte critiche Da parte dei residenti Che io comprendo Rispetto anche Alla parte realizzata Prima di Marotta Ma vorrei ricordare Che quel progetto Ha la stessa mano E la progettazione Nasce dalle strutture Del comune di Fano La parte di Ponte Sasso Ha avuto Necessità di maggior tempo Perché noi abbiamo Integrato ulteriori risorse A quelle previste Perché abbiamo fatto Interventi di sottoservizi Chiaro Hanno creato Maggiori disagi Ma oggi Abbiamo un risultato migliore Che porta ulteriori benefici Oltre alla pista ciclabile Adesso andremo avanti Con gli altri progetti Perché poi Gli altri devono avere Gli esecutivi Per poter intervenire Perché poi procediamo Partecipiamo A tutta una serie di bandi Anche recentemente Abbiamo avuto Un ulteriore finanziamento Di oltre 200 mila euro Per un altro tratto Di pista ciclabile Quindi procediamo E quando Questa pandemia Lo consentirà Andremo anche A fare degli incontri Con i cittadini Porteremo Quindi non vi chiamo Di venire Ma siamo noi Che verremo Da voi Come faremo Incontri Per il nuovo piano La rivisitazione Del piano regolatore Purtroppo anche su questo Ci siamo dovuti fermare Perché non possiamo Ovviamente Per ovvie ragioni Organizzare Assemblee pubbliche Certo Ci segnalano anche Delle grosse buche A Baia Metauro Nella stradina Per andare giù Verso il parcheggio Gli stabilimenti Quindi anche quello Buonasera Sono un'operatrice Del mercato Anderacosta Vorrei chiedere A signor sindaco Se potrebbe mandare Un operaio A riempire con ghiaia O terra Un buco dove è stato Tolto un albero Un mese fa Con tutta questa pioggia E un mare di fango E non si riesce Neanche ad aprire Un pezzo di banco Grazie mille Vogliamo andare Qualche secondo In pubblicità Perché poi cominciamo A leggere Tutti questi messaggi Bene Allora ci fermiamo Per qualche istante A tra poco Bene Siamo di nuovo in diretta Con il sindaco di Fano Massimo Seri Ci sono tantissimi messaggi Ma cerco di raggruppare Gli argomenti E molti ci chiedono Viale Battisti Viale Colombo Saranno sistemati Visto che il progetto Interessa un po' Tutta la zona Del lungomare Dunque Noi adesso Abbiamo E' uscito il bando Sul waterfront Per questo E' una grande Occasione Perché quella zona Del lungomare Ha bisogno Di un intervento Perché ormai Sono passati Molti anni Da quando è stato Riqualificato E' uscito questo bando Il 28 dicembre Usciamo con alcuni mesi Di ritardo Ma purtroppo dovuti Dalla pandemia Questo è gioco forza L'abbiamo subito I bandi sono due Uno riguardano Nord del fiume Metauro E l'altro riguarda Sud del fiume Metauro Perché li abbiamo divisi? Perché vogliamo intervenire In entrambe le parti Abbiamo già destinato Previsto Delle risorse importanti In entrambe Le parti Il bando Prevede un ripensamento Un ragionamento Su tutto il waterfront Ma per waterfront Intendiamo tutta la parte Del lungomare Ma anche il suo retro Quindi diciamo Anche la parte vicino Alla ferrovia Perché non è solo Riqualificazione Ma anche ripensare I servizi Come riorganizzare Tutta questa parte Queste sono occasioni Sono anche un modo Per migliorarsi Quando si rifanno Le cose nuove Per risalire la classifica Se così possiamo dire Rispetto ad un lavoro Che ormai è datato Anche se Allora fu un bel intervento L'architetto La medica Professionista Molto stimato E amato Nella nostra città Per quello che riguarda I due viali Che sono i due viali Che collegano Il centro storico Con il mare Sono importanti Per quello che riguarda Viale Cesare Battisti Noi avevamo già iniziato A fare un ragionamento E a destinare Delle risorse Ma onestamente Richiedevano Un'ingente Somma Che non eravamo Nelle condizioni Di destinare Per l'anno in corso Però partiamo Con la progettazione Adesso aspettiamo Perché a maggio Dovremmo avere L'esito La scadenza Per presentare Questi progetti Che sono un concorso Di idee Ma sono quei concorsi Di idee veri Perché dico questo? Perché molte volte Noi assistiamo A concorsi idee Dove sono dei piccoli premi Però rimangono lì Sono solo Intenzioni Suggestioni In questo caso Come è avvenuto Col parco Dell'aeroporto Abbiamo fatto Un concorso di idee E chi vince Il concorso Si aggiudica poi La possibilità Di fare Il progetto Esecutivo Che per i professionisti È la cosa Importante Quindi questa È una bella opportunità Per la città Visto come Abbiamo fatto Degli interventi Per valorizzare Il centro storico Con il mare Anche perché abbiamo Questa caratteristica Del centro storico Legato al mare La parte Sud Torrette Ponte Sasso Che hanno Un bisogno Adesso Ponte Sasso Interveniamo Con la pista Ciclabile Con alcuni Interventi Che andranno A migliorare Il lungomare Però c'è la necessità Anche per quello Che riguarda Torrette Che è rimasta Un po' ferma Negli anni Con gli investimenti Per un ripensamento Perché quella È una bella zona Non dimentichiamo Che è una zona Forte vocazione Turistica Con Forte vocazione Anche di Ricezione Turistica Fra l'altro Anche nel nuovo Piano regolatore Cosa che non è mai Avvenuta in passato Anche nel Piano regolatore Lo destiniamo Come area Fortemente Vocazione Turistica Con tutto quello Che ne consegue Visto che qua Ne approfitto Il direttore Giustamente Nei giorni scorsi Diceva come mai non riusciamo a trovare Delle parole in italiano O in dialetto fanese Piuttosto Ma utilizziamo sempre Queste parole in inglese E poi io non è che parli L'inglese Quindi ormai diventano Sono un'abitudine Sono diventate protagoniste Del nostro linguaggio comune Però Visto che la nostra È anche una bella lingua Dovremmo cominciare Anche da chi parla A riutilizzare sempre più Le parole in italiano Così giusto un appunto Dunque per quanto riguarda le buche Che ci segnalano Allora Via Cannella Confine di Cartoceto Dice che è di competenza Sei mesi di Fano E sei mesi di Cartoceto Di chi è? Non è che c'è sei mesi Sei mesi Una parte di competenza Del comune di Fano Una parte di comune di Cartoceto Ovviamente Perché è una zona di confine Nelle zone di confine Dove è comune Terreno comunale Fanese È di competenza Il comune di Fano E dall'altra parte Competenza del comune di Cartoceto Il foro Boario è lo stesso Sindaco Sì il foro Boario Il parcheggio Anche su questo Stiamo facendo un percorso Molto importante Abbiamo presentato Il progetto del parcheggio Di via Risorgimento Che verrà riqualificato Sarabello Terra Aperte Tenere il racconto Del verde Via Le Kennedy Via Le Kennedy E questi partono a breve E siamo nella fase Della progettazione esecutiva E mentre per quello Che riguarda il foro Boario E anche quello Del Sport Park Diciamo Quello di Sassone Che questi verranno Tutti riqualificati Abbiamo già previsto Le risorse Che abbiamo Quindi è solo Una questione di tempo Di progettazione Che sono a carico Del nostro ufficio Adesso tempo permettendo Andiamo avanti Però sono candalerizzate Quindi i cittadini Sotto questo aspetto Per stare tranquilli Sono a questione di tempo E ci dicono anche Poi chiudiamo il discorso Buche Perché insomma Ci sono anche tante altre Segnalazioni Il parcheggio di via Basilicata Dove al mattino L'uscita della scuola Nuti E Poderino Anche parcheggiano Continuamente le auto Quindi sarebbe da sistemare Allora Andiamo avanti Tutte le sere Una società di vigilanza Chiude i cancelli Dei passeggi Per riaprirli La mattina seguente Mi domando Che senso ha tutto ciò Visto che il cancello Dell'entrata principale Su via 4 novembre Al Ponte Rosso Da più di un anno È stato tolto A causa di un incidente Quindi chiuso da una parte Ma in realtà rimane aperta Lo dobbiamo sistemare Aperto dall'altra parte Dunque Andiamo avanti Con i vostri messaggi Perché ci sono arrivati Tanti messaggi Anche nel pomeriggio Dopo vari solleciti Ancora Non è stata fatta manutenzione Al cimitero di Rosciano Padiglione 5 Per infiltrazioni di acqua Stanno cadendo calcinacci Dal soffitto E si stanno rovinando Le pietre delle tombe Quando interverrete? Adesso dobbiamo Provare il bilancio Perché purtroppo Finché non abbiamo Il bilancio Non si può intervenire Poi nella programmazione Dei lavori Presso i cimiteri Perché non c'è Solo il problema A Rosciano Ci sono anche In altri cimiteri Quindi c'è un piano Di interventi Per gradi E arriveremo Un po' In tutti i cimiteri Due argomenti Le chiedo però Di essere molto breve Ciclabile Fanurbino Le chiedono Se si farà E chiedono anche Novità per il teatro romano Sì Allora parto Dal teatro romano Come ho già detto La volta scorsa Noi abbiamo stanziato Risorse per fare Ulteriori sondaggi In accordo Con la sovrintendenza Quello sarà un passaggio È un passaggio importante Perché ci consente Di capire Se ci sono altre parti Importanti Da valorizzare In modo particolare Il primo piano Dell'ex Filanda E abbiamo dato L'incarico È già in essere Per la verifica Statica Dell'edificio Perché questi sono Elementi propedeutici Per fare Qualsiasi altro Percorso È propedeutico Anche alla programmazione Di quello che dovrà essere Poi il progetto Di valorizzazione Di quell'area Nello stesso tempo Stiamo lavorando Per rendere possibile Le visite Già dalla prossima Estate In sicurezza Ovviamente Controllate E guidate Dopodiché Vorremmo procedere Con un concorso Di idee Per la progettazione Di questo Dell'ex Filanda Che anche qui È uno stabile Importante Strategico Che si unisce Alla riqualificazione Del Sant'Arcangelo Anche su questo Siamo nella fase Del progetto Esecutivo Per poi appaltarlo Quindi diventerà Una zona di forte Interesse E che farà crescere Ne sono convinto Di questo Ancora di più La nostra La nostra città E l'altro Teatro romano E la ciclabile Ah la ciclabile Fano Urbino Io sono favorevolissimo Nel realizzare La pista ciclabile Fano Urbino Ma penso che Quasi la totalità Della città Voglia che Venga realizzata Una pista ciclabile Che diventa Un'infrastruttura Di collegamento Dei quartieri In questo corridoio Di grande suggestione Bellezza E in modo particolare Nei quartieri Attraversati Il progetto Su cui stava Lavorando la regione È un progetto Che non compromette Dell'utilizzo Del binario E quindi è a lato C'era già Un progetto Di fattibilità C'era già stato Presentato Ai sindaci E devo dire Riaffermare Che i sindaci Eravamo tutti D'accordo Su questo progetto E quando parlo Dei sindaci Parlo di Fano Cartoceto Colli e Almetauro Adesso fra l'altro Il sindaco Di Colli e Almetauro Nonché già sindaco Di Fano È assessore Regionale Quindi io spero Che possa perorare Questa Causa Perché è una grande Occasione E non vorrei Considerato anche Le uscite ci sono state Che si parli Di spostarlo Rischiamo di perdere Un ulteriore tempo Anche perché Lasciatemelo dire La mia paura È che non si faccia niente E ricontinuiamo A tenere quello spazio Nelle condizioni In cui oggi Che è l'ultima cosa Che chi amministra Si deve permettere Poi se ci sono le risorse Per ripristinare La ferrovia Ma io su questo dubito Lo dico con estrema franchezza Perché noi ci pigliamo in giro Perché sento sempre Grandi discorsi Ma ci fosse una volta Una proposta concreta Perché i discorsi Si fanno con risorse Lì ci sono problematiche infinite Dove non si giustifiano Determinati interventi Penso che possa essere Una cosa intelligente Una metropolitana In superficie Che sarebbe molto utile E comoda Io aspico quindi Che ci possa essere L'una e l'altro Per cui non sono contrario Però Non perdiamo Quest'occasione Fra l'altro Le risorse Sono già in gazzetta Ufficiale Sono disponibili C'è solo un rischio Quello di non realizzarlo E di perdere quelle risorse Quindi evitiamolo Per quello che mi riguarda Avanti tutte Sono un abitante di San Lazzaro C'è una scritta Anticovid Anche nei pannelli pubblicitari L'incrocio tra via San Lazzaro E via del Ponte Dove c'è il semaforo Da prima di Natale In via Mura San Gallo Hanno rotto lo specchio Per il traffico Ancora non è stato rimesso nuovo Chi esce da via della Valle Fa difficoltà A vedere le auto che passano E ancora Comprendo la difficoltà Realizzare Qui dovremo avere una foto La pista ciclo pedonale Paleotta Arzilla Anche se sono anni che aspettiamo Ma quanto possono costare Due sacchi di catrame Per sistemare almeno Il ponticello sull'Arzilla Giacomo Sì Qui non vogliamo sistemare Il ponticello Con due sacchi di catrame Ma vogliamo farlo Il progetto finalmente C'è Abbiamo candidato Questo progetto Per un finanziamento Del Ministero dell'Ambiente Siamo in attesa Di conoscere Se viene finanziato Se non dovesse essere finanziato Con quel bando Procediamo con le risorse proprie Volevo chiedere a Sindaco Se è possibile Nell'unica isola ecologica Di Sant'Andrea Di mettere un po' di ghiaia E anche stabilizzato Perché non si riesce proprio Ad andare lì Appunto per il fango Anche questo magari Da rigirare Ad Aset La caserma Di vigili del fuoco Sindaco? Vigili del fuoco Ormai è fatta Finalmente Adesso cerchiamo Di arrivare Alla posa Della prima pietra Che io spero Possa venire Nel mese di febbraio Un ringraziamento Per il sindaco Per essere stato di parola Nell'installazione Dell'illuminazione Della pista pedonale Presso i giardini Guasco Di San Lazzaro Sì questo fra l'altro Erano domande ricorrenti Anche in questa trasmissione E finalmente Le abbiamo realizzate Anche qui Ferrovia Fonurbino Si è incontrato Con l'assessore Baldelli Che cosa Si dice in merito No non ci siamo ancora incontrati Ci siamo incrociati Durante la conferenza stampa Per lo screening Mi ha anticipato Che avrebbe organizzato Questo incontro Che ancora non c'è stato Io auspico Che possa arrivare Il prima possibile La ciclabile Bellocchi Mare Ha delle novità Visto che No nuove novità Non ce ne sono L'ospedale Chiedono dell'ospedale Beh Oddio adesso È un po' complicata La situazione Il tema della sanità È un tema Per un sindaco Sempre presente Fra l'altro Sono stato nominato Delegato da Anci Marche Come delegato sanità Per le Marche Per i sindaci E quindi questo Per la città di Fanno Penso sia una cosa Importante E ovviamente adesso La pandemia La fa da padrone Non abbiamo avuto Incontri Per quello che riguarda Il piano sanitario E l'organizzazione Sanitaria Alla luce anche Della nuova Amministrazione regionale Che ha fatto Degli annunci Però devo dire Anche per onestà Intellettuale Che l'assessore Saltamaltini Alla luce Della mia richiesta Di incontro Mi ha richiamato Quindi devo riconoscergli Che è stato corretto E mi ha chiesto Di questa cosa Di rinviarla Perché in questo momento Sono impegnati quotidianamente Nell'affrontare Questa guerra Lo dico fra virgolette Con questo nemico Invisibile Che si chiama Covid-19 Abbiamo gli ultimi minuti A disposizione Quindi anche Gli ultimi messaggi Allora Le chiedono di inviare Qualcuno invia l'Italia Per ripristinare L'illuminazione Manca in alcuni tratti E quindi un po' Anche pericoloso Poi l'asfalto In via Matteo Ricci Zona Tombaccio Non è stato completato Per tutta la via C'è un pezzettino Non asfaltato E quindi si Ma penso che Quello sia privato Quella parte Là c'è un problema Volevo chiederle Poi sindaco Per la Darsena Borghese Anche perché Quello è un gioiellino Sì Anche su quello Un'altra soddisfazione Una cosa che ho voluto Fortemente Perché questa città Delle chicche Straordinarie Anche qui abbiamo Appaltato i lavori Io penso Per la prossima primavera Ci sarà La nuova Riqualificazione Della passeggiata Della prima parte Quindi dalla Darsena Fino al ponte Fra l'altro La Darsena Ha avuto Anche adesso Ulteriori interventi E qui devo Fare un ringraziamento Pubblico All'associazione Marinai d'Italia Che hanno Rivalorizzato Quell'area Quel monumento Da dove ha origine Il nostro porto Con una grande passione Un grande amore Dedizione L'hanno vivacizzata Anche culturalmente Quello sarà Un intervento Anche questo Già appaltato Qui c'è già la ditta A brevissimo Partiranno Lì riqualificheremo Tutto il manto Sistiberemo Tutta la parte Di verde Ci sarà Una illuminazione Emozionale Illumineremo Anche l'acqua Che cade Dalla diga E poi C'è un progetto Di proiezione Nella parete opposta Quindi verso Nord Quella giusto Esatto Esatto Quindi metteremo In sicurezza Anche la staccionata Ci saranno Queste illuminazioni Dal basso Purtroppo Ci rovina un po' La festa Nel senso che Per ragioni di sicurezza Siamo costretti A mettere Anche una parte Di illuminazione Che scende Dall'alto Perché siamo Al bordo acqua E quindi per ragioni di sicurezza C'è anche quella Che rovina un po' L'effetto Emozionale Che viene Dall'immunazione Dal basso Però Sarà una bella Riqualificazione Di che tempo parliamo? No no Adesso Quindi io Penso per primavera Che lo inaugureremo Ma non ci fermiamo lì Questo è il primo Stralcio Già finanziato Già approvato Progettato E c'è già la ditta Poi stiamo Già lavorando Il progetto Anche su questo È ormai finito Che ci ha Proposto RFI Di un sottopasso Pedonale Che consentirà Di attraversare A piedi Per arrivare Fino al faro E stiamo già Progettando La riqualificazione La parte Post Ponte Il sottopasso Prevede anche La demolizione Del vecchio casello Che sta sopra Sotto la rocca Anche quello Renderà più bella Quella zona A Largerà Ci sarà una forma Una certa Una piazzetta In basso E quindi Diventerà anche Quel collegamento Mare Centro storico Che va in qualche modo A recuperare Un'idea straordinaria Che fanno Non accolto Purtroppo Che era quel progetto Di Gregotti Che collegava Attraverso un percorso Dalla rocca Fino al Lido Che è naufragato Peccato E in qualche modo Questo Non dico che lo sostituisce Perché è un'altra cosa Ma c'è un percorso Pedonale Reale Che collega Il centro storico Con il mare Con questa suggestione Della d'Arsena Borghese Le chiedono velocemente Dell'ufficio Anagrafe A Torrette Ponte Sasso E poi di una pista Il ciclo pedonale Che va da via Pisa Cania Tutto via Lepiceno Fino a Ponte Metauro Sì Il problema Dell'ufficio Anagrafe Lì i problemi Erano di natura Tecnica Adesso però Dobbiamo dire Che la tecnologia La digitalizzazione Ha fatto passi Da gigante In che noi Ci stiamo Attrezzando E quindi Ci saranno anche Nuove formule Che renderanno Più agevoli E il servizio Andrà verso Il cittadino Non sarà più Il cittadino Che viene verso L'amministrazione Come giusto Che sia Questo alleggerà Le procedure Ma soprattutto Farà perdere Meno tempo E semplificherà Le cose Per il cittadino Per quello Che riguarda La pista ciclabile Si ricollega Il ragionamento Che facevo prima La pista ciclabile Fano Senigallia E noi Auspichiamo Che è la progettazione Che sta nelle priorità Del 2021 Preveda anche La progettazione Di un ponte Ciclabile Del Metauro La regione Ha finanziato Un ponte Ciclabile Sul Cesano E quindi Il prossimo ponte Dovrebbe essere Quello del Metauro Noi ci attrezziamo Anche perché Ripeto Ci saranno queste occasioni Del recovery fund E noi dobbiamo essere pronti Per candidarci Con i nostri progetti Per farli finanziare E quella sarà Un'infrastruttura Di grande qualità E di valore E di qualità Della vita Per la nostra città Ultime due Sindaco Loculi al cimitero Di Rosciano Se ne sono previsti Di nuovi E adesso Non in questa fase E poi quando sarà pronto Sottopasso vicino alla Comet Si, quello era legato anche con lo sviluppo della costruzione della struttura commerciale I sottopassi sono già stati fatti Non sono ultimati E quindi adesso dobbiamo aggiornarci Perché sono opere che abbiamo delegato al privato Come è avvenuto Col sottopasso di Ponte Sasso Negli anni passati Vorrei chiudere con lei con un messaggio anche un po' di speranza Sindaco Seri merita tanto perché è una bella persona Un bravo politico E lui sa che lo penso davvero Ma la foto al suo fianco della nostra piazza è meravigliosa Amiamo la nostra Fano Quindi facciamo del nostro meglio Per tornare a vivere la nostra amata città Intanto ne approfitto per ringraziare anche la nostra sala montaggio I grafici Anche Filippo Pucci che ha curato la sigla E che anche a lei piace tanto Sentivamo Mi parlavamo C'è una bella sigla Fatti sono le mie mani Quelle che sono state riprese Però ringrazio intanto per le belle parole Perché fanno piacere Fare il sindaco in questi momenti difficili Ci spingono grande amore per la città Io sono veramente innamorato E ogni mattina quando mi alzo Penso cosa posso fare sempre di bello E a favore della città Perché poi l'obiettivo che ha chi amministra È quello di lasciare un segno positivo Però è una città che merita E penso che alla fine dobbiamo tutti aiutarci Dobbiamo essere tutti dei bravi cittadini E ognuno di noi può fare qualcosa per la propria città Al di là di quello che deve fare come giusto che sia il pubblico Ma io penso è importante anche quelle piccole cose Che ognuno di noi può fare Per poi farle diventare grandi E rendere la città sempre più bella Come merita E anche perché noi siamo fortunati Abbiamo avuto questa eredità Che tante altre città hanno Ma tante altre non ce l'hanno Due mila anni di storia Non sono poche E allora valorizziamola e teniamola conto Impegniamoci un po' tutti Grazie davvero al sindaco di Fano Massimo Seri E grazie a tutti voi per averci seguito Un ringraziamento anche a chi è in regia Quindi dietro le quinte Cristiana Guerra e Riccardo Sora Sindaco alla prossima Ci vediamo tra un mesetto circa Buonanotte a tutti Buonanotte Buonanotte a tutti 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 Buonanotte a tutti